Credo che Papa Francesco si appresta a visitare la Terra Santa con quella intensità di sentimenti che è di ogni cristiano che si reca in pellegrinaggio nella terra di Gesù. Quindi sono sentimenti di attesa, soprattutto in questa vigilia della partenza, sono sentimenti di fede, sono sentimenti di grande emozione e sono sentimenti di gioia. Desiderio di ripercorrere i luoghi dove Gesù è vissuto, dove Gesù ha patito, è morto ed è risorto. Il desiderio di ripercorrere le orme del Salvatore, al quale il Papa Francesco ci invita continuamente ad aderire con un'adesione di fede personale e viva che poi si fa anche testimonianza, profondamente vivo in Lui e sarà questo un po' il filo rosso di questo pellegrinaggio. Quali sono i frutti auspicabili per questo pellegrinaggio tra Amman, Betlemme e Gerusalemme? Ma credo che sono frutti soprattutto di grazia che maturano nel cuore di ogni uomo, proprio perché il Papa ha voluto dare questa connotazione di preghiera al suo pellegrinaggio, un pellegrinaggio di preghiera. Ed allora i frutti della preghiera, come sappiamo, maturano soprattutto nel cuore delle persone che sono disponibili ad accogliere la grazia di Dio. Frutti, ecco, diciamo che poi devono anche trasformarsi in testimonianza. Io direi che i frutti andrebbero soprattutto nella direzione dell'incontro, un frutto di incontro tra il Papa e le diverse realtà che vivono in quella terra e tra queste diverse realtà anche tra di loro. E' un frutto di pace, ecco, sappiamo che il Papa si reca in una terra particolarmente travagliata. Io spero davvero che il frutto possa essere quello di aiutare tutti i responsabili e tutte le persone di buona volontà a prendere decisioni coraggiose sulla via della pace. Una terra dove fatica a fiorire la pace. Quali sono i suggerimenti, gli auspici della Santa Sede nel dialogo israelo-palestinese? La Santa Sede, il Papa ripeterà un po' quella che è la posizione che la Santa Sede ha assunto e che anche i suoi predecessori in occasione dei loro viaggi in Terra Santa e in moltissime altre occasioni hanno espresso, ecco, e che si riassumono praticamente in questi tre punti. Da una parte il diritto di Israele di esistere e di godere di pace e di sicurezza dentro dei confini internazionalmente riconosciuti. Il diritto del popolo palestinese di avere una patria sovrana e indipendente, il diritto di spostarsi liberamente, il diritto di vivere in dignità. E poi il riconoscimento del carattere sacro e universale della città di Gerusalemme e della sua eredità culturale e religiosa, ecco, quindi come luogo di pellegrinaggio dei fedeli delle tre religioni monoteiste. Quindi sono un po' questi i punti sui quali il Papa insisterà anche questa volta in linea un po' con tutta la politica, tra virgolette, della Santa Sede per quanto riguarda il conflitto israelo-palestinese. All'Angelus dello scorso 5 gennaio Papa Francesco ha parlato di questo viaggio come di un pellegrinaggio insistendo sull'aspetto della preghiera. Cuore pulsante sarà appunto l'incontro ecumenico al Santo Sepolcro con il Patriarca Bartolomeo I di Costantinopoli, il ricordo nello storico incontro tra Paolo VI e il Patriarca Atenagora. Crede che questo appuntamento possa in qualche modo segnare anche un momento significativo e importante nei rapporti tra le Chiese? Certamente, certamente lo sarà. Ecco, ripensando un po' a quello storico incontro di 50 anni fa tra Paolo VI e il Patriarca Atenagora, appunto, che oggi il Papa vuole commemorare, vuole ricordare, ecco, mi veniva in mente che evidentemente l'ecumenismo è stata una delle acquisizioni del Concilio Vaticano II, ecco, naturalmente al termine di un lungo cammino percorso anche dalla Chiesa Cattolica in questo senso, ma che l'incontro tra Paolo VI e Atenagora ha dato un impulso, direi, fondamentale, determinante a questo cammino ecumenico, a dirci a volte che i gesti magari servono di più delle parole, quali sono più eloquenti delle parole. Io mi auguro, ecco, che l'incontro tra Papa Francesco e il Patriarca Bartolomeo riavvivi un po' questa fiamma, questa fiamma, questo entusiasmo per il cammino ecumenico, ecco, che dovrebbe animare un po' tutte le iniziative che pur ci sono, no, ma dovrebbe esserci quest'anima di entusiasmo e questa passione per l'unità che è stata la preghiera, l'ardente preghiera di Gesù nel Cenacolo prima della sua passione morte. Il motto del viaggio sarà Autunum Sint, in concreto quanto ci separa da quella piena unità, da quella coerenza di testimonianza tanto auspicata dal Pontefice. Dove sboccherà e come sboccherà questo cammino verso l'unità, questo è nascosto nei disegni di Dio, perché l'unità, come sappiamo, è soprattutto un dono del Signore che dobbiamo impetrare con la preghiera. Quello che io credo è richiesto a noi per accorciare le distanze e per accorciare i tempi è proprio una conversione continua al Signore e all'amore fraterno. Ecco, se ci convertiamo al Signore e ci convertiamo all'amore fraterno, probabilmente non mancherà molto a che riusciamo a vivere e a testimoniare in maniera coerente questo valore dell'unità fra tutti i cristiani. Il viaggio sarà anche un momento di vera gioia per i cristiani che vivono in Giordania, Palestina e Israele, cristiani che spesso vivono in condizioni difficili. Sarà un momento di gioia e di conforto per tutti i cristiani che vivono in Terra Santa e il Papa, credo, vuole sottolineare nell'incontro diretto con loro due cose, che questi cristiani sono pietre vive e che senza la loro presenza la Terra Santa e gli stessi luoghi santi rischiano di trasformarsi in musei. Ecco, come diciamo spesso, no? In musei. Ecco, invece la loro presenza assicura che lì ci sia una comunità cristiana viva e una presenza viva del Signore risorto. E nello stesso tempo, oltre questa dimensione, diciamo, più ecclesiale, anche il ruolo che i cristiani del Medio Oriente e della Terra Santa hanno nelle società in cui vivono, nei paesi in cui vivono. un ruolo fondamentale, vogliono mettersi sinceramente a disposizione dei loro concittadini per costruire insieme una patria libera, giusta e democratica. Significativo sarà anche l'incontro con il mondo musulmano, un'occasione in più per dimostrare che con il dialogo e il rispetto è possibile superare ogni forma di estremismo? Sì, credo che questo è un punto fondamentale, proprio perché ci troviamo di fronte a tante situazioni di crisi che tutti noi abbiamo ben presenti. E quindi sottolineare che dunque possiamo vivere, possiamo conoscerci di più, anzi dobbiamo conoscerci di più, che dobbiamo rispettarci e che possiamo anche collaborare in tanti ambiti, ecco, che richiedono, diciamo, l'apporto di tutti, ecco, per una soluzione dei problemi che travagliano oggi l'umanità. E io direi anche per superare quelle forme di estremismo che dobbiamo denunciare tutti, senza reticenze, ecco, e che tante volte nascono dall'ignoranza e da una visione della, diciamo, della religione che ha poco a che fare con la religione stessa. Un viaggio intenso che darà anche l'occasione al Papa di abbracciare i nostri fratelli maggiori. Quale attesa c'è nella comunità ebraica per questa visita? Penso grande, penso che ci sia un'attesa grande, almeno come ho potuto sperimentare anche degli incontri con vari esponenti del mondo ebraico in questi mesi precedenti alla visita del Papa. Ricordiamo poi che il Papa da tempo intrattiene anche rapporti personali con molte personalità del mondo ebraico. Anche qui credo che va un po' sulla strada che ricordavo poco fa, la strada della maggiore conoscenza, del maggior rispetto reciproco, della lotta contro ogni forma di discriminazione e di antisemitismo e nella collaborazione appunto nelle grandi cause dell'umanità.